Dopo 35 anni, Pordenone dedica una mostra internazionale al suo cittadino più illustre, il grande pittore rinascimentale Giovanni Antonio De Sacchis, detto appunto il Pordenone. In esposizione alla Galleria d'Arte Moderna di Parco Galvani, fino al 2 febbraio 2020, circa 80 opere che mettono in relazione De Sacchis con i suoi contemporanei. Oltre ai suoi capolavori sono esposte importanti opere di Giorgione, Tintoretto, Correggio, Lotto, Bassano e altri giganti della maniera. I curatori sono Caterina Furlani e Vittorio Sgarbi per una mostra voluta e organizzata dal Comune. Questa mostra è stata allestita con lo sforzo corale delle istituzioni e dei privati proprio per una ragione, cioè per togliere dall'ombra la figura del Pordenone che era conosciuto a livello provinciale e regionale e restituirlo invece alla sua grandezza, non primo tra i secondi ma grande tra i grandi, Michelangelo del Nord. L'altro aspetto fondamentale è che proprio grazie a questo effetto traino del Pordenone, che ha lo stesso nome della nostra città, poter richiamare il grande pubblico in città per poter godere della vitalità, dell'effervescenza e dell'unismo culturale che caratterizza Pordenone, che non è una città sonnechiosa ma al contrario, piccola cittadina, 51.000 abitanti, ma caratterizzata da festival, mostri, iniziative culturali, un tessuto associativo robustissimo e molto dinamico, e conseguentemente chi viene a vedere il Pordenone potrà da un lato apprezzare questa grandezza e dall'altro anche poter gustare la qualità della vita della nostra città. A impegnarsi per dar vita all'esposizione è stato l'assessorato alla cultura. Nessuno di solito è profeta in patria o perlomeno lo è raramente, adesso il Pordenone diventa profeta in patria. Con questa grande mostra abbiamo voluto riportare un grande autore del nostro territorio, Giovanni Antonio De Sacchis, a casa sua e ci aspettiamo un grande pubblico, un pubblico che venga non solo dal Triveneto ma anche dall'Italia tutta. Parliamo di rinascimento, parliamo di rinascimento italiano, abbiamo le più grandi eccellenze del rinascimento italiano e quindi non possiamo che attenderci, e oggi stesso Sgarbi, il professor Sgarbi ce l'ha detto, non possiamo che attenderci un grande pubblico per una mostra che sicuramente non deluderà nessuno. Come sempre incontenibile Vittorio Sgarbi che sul Pordenone parla così, con finale a sorpresa. Non è un pittore minore rispetto a Parmigianino Correggio, è meno conosciuto, ma la forza inventiva, soprattutto deflagrante dal 1520 nella cappella Malchiostro, quando lui torna evidentemente da Roma che si è andato nel 16 o nel 18 contapoco, lo fa diventare il primo magnerista. Cioè lui comincia a diventare magnerista come Pontormo e come Rosso Fiorentino. E poi questo diventa una voce determinante in tutta l'area padana dove lui si muove da Cremona a Corte Maggiore a Piacenza, dove lui fa i suoi capolavori a Fresco e quindi vince su Tiziano perché Tiziano a un certo punto, intorno a 1512-13, smette di fare a Freschi, mentre lui continua a farli, li fa con una forza, come la Fresco chiede, di immediatezza, di velocità, di rapidità, è rapido e crea degli effetti speciali. Non so se si possa dire migliore degli altri, certamente è più nuovo, più irrompente, più deflagrante. Nessuno in quel momento lo supera. È impossibile non venire a Pordenone. Ah, non venire a Pordenone, che non viene a Pordenone è un c***o. Ah, non venire a Pordenone è un c***o.